Quella che stiamo percorrendo in questo momento è la strada che collega Erbil a Mosul. Dopo l'arrivo dello Stato islamico la comunicazione tra le due città è stata praticamente interrotta e pensate che ad oggi la distanza che divide la capitale del Kurdistan iracheno da Mosul e quindi dallo Stato islamico è di soltanto 40 km. Quindi questo è l'ultimo punto di entrare per l'arrivo. Ci sono ancora persone che venivano da Mosul e che vogliono venire da l'arrivo. Vogliono venire da Kurdistan e si scappano da Isis. Quando venire da Turccia ho fatto l'arrivo, ho fatto il lavoro. Ma come? Perché tu non è venuto a l'arrivo? Non mi sono venuto a Mosaul e non sono venuto a Turccia. Ho venuto a Turccia, ho venuto a l'arrivo. Ora non c'è una volta a l'arrivo. No, 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 no. Non c'è un lavoro, c'è un lavoro, il cibo, il colore, è un decreto. E questo è un buon vero? Certo. E questo è un buon vero. Grazie. Avrei una volta che avvi volentieri del Mocer, di Karko, di Karko, di Pogdad e di Pogdad, dove sono venuti il Pogdad? Se sei il nio più, siamo arrivati, e se non ci verà, è il procedimento della pittura, come è avuto da dire? È avuto la pittura. Sì, c'è il giardino. Sì, c'è il giardino. Il giardino. Ci sono di un atteggiamento, tutti i cose che sono appoggiate. Ci sono delle cose che si sanno. Ci sono alcuni dei maci. Ci sono persone che sono iniziali, non c'erano persone. Ci sono incontri dell'islamo, ma l'islamo è vero. Non c'è un po' di due persone, ma non c'è un po' di due persone. Di due persone, un po' di due persone. Non c'è un po' di Daesh. collegamento con il Kurdistan per evitare ogni fuga dalla città e rendere più difficili gli attacchi esterni. Solo a metà settembre la zona è stata liberata dai Peshmerga che sono riusciti ad avanzare verso est recuperando alcune decine di chilometri. Tutto quello che c'è da qui in poi è controllato dallo Stato islamico. Quel villaggio laggiù quella è una fabbrica di cemento, non cementificio. Tutto l'area circostante qui infatti era controllata dai miliziani dell'Isis. Ad oggi anche oltre il confine che va al di là di questo muro, l'Isis non espone le bandiere per paura di rappresaglie da parte dei soldati. La nascita dello Stato islamico ha dato vita a un'onda di rifugiati. Sono 13 milioni e 600 mila le persone che a causa della guerra civile siriana e di quella contro lo Stato islamico hanno lasciato le proprie case. Una situazione oltre i limiti della gestione per l'Agenzia per i rifugiati dell'ONU, la quale lo scorso novembre ha denunciato la quasi totale indifferenza dell'intera comunità internazionale. In Iraq sono circa 2 milioni i rifugiati interni e 190 mila le persone che hanno superato i confini nazionali scappando per lo più in Turchia. La comunità cristiana irachena è stata quella maggiormente colpita. Circa 120 mila cristiani hanno lasciato la propria casa dopo l'arrivo del califato nero, trovando rifugio nel nord del Kurdistan iracheno. A presto. 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 E' un po' di Batiqan. Non ci ha dato qualcosa? Non si. Non si. Non si. Non ci ha dato un po' di Batiqan. C'è una città di Cina di Naka. Ci sono due loro, Grazie a tutti. 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 è possibile vedere le loro postazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.